Cibi avariati, colonie di blatte e pure attività di spaccio, questo quanto accadeva all'interno di un panificio di via Plebiscito. I carabinieri hanno infatti notato un'incessante via vai di persone da questo panificio di San Cristoforo, dal quale però diversi acquirenti uscivano senza pane. I militari hanno quindi effettuato diversi appostamenti, mimetizzandosi tra i clienti e hanno così scoperto che il panificio era a base operativa di due spacciatori. Non solo, sono intervenuti anche i NAS che hanno trovato frigoriferi senza corrente e dunque margarine e vari impasti invasi da muffe. E ancora scacciate giacotte, pieni da lavoro incrostati e soprattutto una nutrita colonia di blatte sul pavimento e sui muri. I carabinieri hanno arrestato e multato i soggetti coinvolti che ora si trovano ai domiciliari.